Oggi a Come è Fatto Seghetti, andremo in una fabbrica graffiante Ci sono tanti tipi di seghe, ciascuna con uno scopo specifico Seghe per tagliare i pavimenti, seghe da traforo, seghe a mano e a nastro e infine seghetti I seghetti sono principalmente usati per tagliare metalli o altri materiali duri Ma cosa li rende così all'avanguardia? Le aziende producono le lame dei seghetti da diverse leghe d'acciaio Ecco una sottile striscia di acciaio che finisce in una macchina Che la taglia in pezzi di 30 cm di lunghezza e di 1,3 cm di altezza Gli addetti caricano 300 pezzi alla volta e li martellano delicatamente per comprimerli in un blocco Per un taglio più agevole Dopodiché ripongono il blocco in una macchina detta ammolatrice Che realizza una dentatura nella parte superiore Un lubrificante a base di acqua rimuove le particelle metalliche Questo modello di seghetto ha una lama con 24 denti ogni 2,5 cm I residui metallici vengono rimossi con un comune pennello Il dipartimento del controllo di qualità ispeziona ogni lama e gli eventuali difetti Dopodiché un separatore stacca ciascuna delle 300 lame Le allinea e le inserisce in una macchina per la regolazione Questa piega i denti su ciascun lato realizzando un piccolo angolo Il processo di compensazione consentirà alla lama di rimuovere tutte le particelle mentre lavora Evitando di incepparsi Ora è il momento di rafforzare i denti per mezzo di un trattamento termico del metallo Un ingranaggio a vite e allinea le lame in una serpentina di riscaldamento In questo processo la serpentina di riscaldamento elettromagnetica Riscalda i denti fino a temperature di 1200 gradi centigradi In base al tipo di metallo Occorrono non più di due secondi Dopo che le lame escono dalla serpentina di riscaldamento Vengono lasciate raffreddare all'aria Questo processo prende il nome di TEMP Le lame sono ora pronte per la stampa Mediante un sistema di stampa offset L'inchiostro viene trasferito sulle lettere in rilievo sul primo cilindro Che poi lo trasferisce sui nastri montati su un secondo cilindro I nastri infine stampano il nome dell'azienda La lunghezza della lama E il numero dei denti per centimetro sul lato di ciascuna lama Ora una macchina inserisce le lame in gruppi di 5 infessure Che le fanno ruotare E le posizionano su un nastro trasportatore La macchina solleva le lame e le lega insieme a un'estremità Così è più semplice trasportarle in un altro settore dell'azienda Dove continua la produzione Poi si passa al telaio del seghetto La parte che trattiene la lama Gli addetti posizionano i componenti del telaio Su un dispositivo girevole Una saldatrice affonde i componenti Quindi una pressa pratica tre fori nell'impugnatura Per attaccare un rivestimento in polistirolo o plastica Gli addetti sistemano le due metà della presa In una saldatrice ad ultrasuoni Che le fonde per mezzo di onde sonore ad alta frequenza Queste creano attrito Generando il calore necessario a fondere le due parti Ora il telaio è pronto per la lama Un dispositivo automatico stringe un galletto Per mettere in tensione la lama Poi delle lame scelte a caso Vengono sottoposte a un controllo di qualità finale Per farlo le lame tagliano un blocco di acciaio inossidabile La macchina esegue il test 6 volte per ciascuna lama Poi il computer calcola il numero medio di colpi Se la media è compatibile con le norme previste Per quel particolare modello La serie viene approvata A questo punto bisogna stare attenti a non tagliarsi